Nicoli Cristiani è stato scarcerato su decisione del GIP di Milano Elisabetta Meyer dopo il parere favorevole del PM milanese Paolo Filippini e dell'aggiunto Alfredo Probledo. L'ex vicepresidente del Consiglio regionale ha lasciato il carcere di San Vittore ed è tornato a casa. Il suo legale ha chiarito che Nicoli Cristiani è stato scarcerato perché si è dimesso da tutte le cariche ed ha reso nei giorni scorsi un interrogatorio davanti al PM nel corso del quale si è difeso fornendo tutti i chiarimenti opportuni. Il verbale però dell'interrogatorio è stato secretato. Nicoli Cristiani, secondo l'accusa, avrebbe intascato una tangente dall'imprenditore Pierluca Locatelli per accelerare le autorizzazioni per la cava di Cappella Cantone nel Cremonese da trasformare in discarica d'amianto. Oltre alla scarcerazione dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Nicoli Cristiani, sono tornati liberi anche l'imprenditore Pierluca Locatelli e l'ex funzionario dell'ARPA Giuseppe Rotondaro. Per loro, infatti, il GIP di Milano ha revocato l'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari. E dopo la vicenda di Cappella Cantone, dei cantieri della Brebemi e di quelli dei Segrate, spuntano nuove indagini. Sotto i riflettori la Paulese, dove sarebbero stati smaltiti rifiuti illeciti. Secondo le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, la ditta Lucchini-Artoni, ditta operante nelle demolizioni e negli scavi e nel movimento terra, avrebbe trasportato, smaltito e gestito illecitamente grossi quantitativi di rifiuti speciali, fra cui fresato d'asfalto. Parte di questi rifiuti sarebbero finiti anche sotto il mante stradale della Paulese.